Sozzi, mi perdoni, ma non dicevano che Coraltur era stata chiusa o perlomeno in procinto di chiudere? La Coraltur sì, era in procinto di chiudere, infatti siamo stati diciamo in stand-by diversi mesi parlandone con tutti i soci e indubbiamente c'erano delle crisi finanziarie non indifferenti. Questa crisi proveniva già da, si trascinava già da diversi anni e è logico che non si poteva più andare avanti così. Con gli anni siamo riusciti a ridurre il debito, un debito che è stato generato non per la mala gestione del consorzio ma perché con il progetto della regione Lombardia che voleva ampliare il discorso turistico per tutta l'Europa ed aprendo uffici qua e là per l'Europa e soprattutto dall'est, questi uffici alla fine hanno generato qualcosa ma c'erano dei costi esorbitanti di gestione. Questo ha fatto sì che i debiti aumentavano man mano e con la vendita di questi siamo riusciti a ridurre. Siamo arrivati a un punto che si era deciso di chiudere ma dato che noi crediamo che l'Unione fa la forza abbiamo deciso di mettere mano al portafoglio. Tutti i soci che avevano un interesse, gli albergatori, ristoratori e impianti di sci soprattutto e anche i negozi di abbigliamento sportivo, noleggi eccetera hanno deciso appunto di appianare i debiti. In realtà l'Accorato non è mai stata chiusa è sempre stata aperta e adesso siamo ripartiti con un nuovo spirito di avventura.